Sicuramente è stato bellissimo giocare qua, anche senza tifosi, è una partita così bella, poi far golo ovvio, ho fatto tutto migliorare la serata con la vittoria. Il settore giovanile porta poi questi giocatori in prima squadra e cerchiamo di dimostrare quello che vogliamo e in campo cerchiamo di fare il massimo. Lui è bravissimo in campo, comunque ti aiuta, parla sempre, anche se urla, ma alla fine è tutto merito sia suo che della squadra, ma è grazie a lui.